Recentemente Jared Leto ha dichiarato che dubita fortemente di tornare nel ruolo di Joker, ma ha anche aggiunto mai dire mai, e visto che neppure io inizialmente avrei dato una lira per la possibilità che venisse realizzata la Snyder Cut di Justice League, rendendola proprio l'eccezione che conferma la regola, vi do il bentrovati su Watchmen Italia, dove oggi sveleremo la nostra top 10 film mai realizzati. Per questa lista ovviamente film passati alla storia, più che altro per il devastante hell development in cui sono finiti invischiati, prodotti di cui si è parlato per anni e anni, che poi per motivi vari sono finiti nel dimenticatoio o rimasti nei sogni più proibiti di registi e produttori, e le motivazioni a questi stop sono spesso varie e articolate. Vi avviso anche che per motivi di pasta, vi prego, lo sappiamo, abbiamo escluso a prescindere celebri film mai realizzati, come ad esempio il Dune di Jodorowsky o il terzo capitolo della saga di Jenna Pliskin di John Carpenter, o anche film rimasti in hell development per anni e poi finalmente realizzati, e questo è il caso del Don Quixote di Terry Gilliam ad esempio. Siete pronti a sperare che qualche produttore accolga le vostre preghiere per salvare la produzione di La Febbra 3? E allora andiamo alla numero 10, Superman Lives, che dopo Batman Returns avrebbe dovuto, nei progetti del regista Tim Burton, segnare il grande ritorno sugli schermi del kriptoniano con il mantello rosso. Il progetto, tra l'altro, partiva in uno di quei contesti dai nerd per i nerd, dove Burton sarebbe appunto stato alla regia e la sceneggiatura sarebbe stata pane per i denti di Kevin Smith, regista che personalmente apprezzo moltissimo, e che avrebbe dovuto mettere in scena una super sfida tra Clark Kent e una delle sue nemesi, Brainiac, a cui avrebbe dovuto subentrare Doomsday, quando a un certo punto la sfida tra i due si sarebbe dovuta spostare niente po' di meno che sul sole. Il cast era praticamente già fissato, con Chris Rock nel ruolo di Jimmy Olsen, collega e amico di Clark Kent, Christopher Walken nel ruolo del villain megalomane e niente po' di meno che Nicolas Cage nella tutina blu con mutande rosse. Ovviamente quelli erano gli anni 90 e il cinecomic doveva ancora essere canonizzato al 100%, dunque le divergenze creative si fecero sentire alla svelta. Lo script di Smith pare facesse acqua da tutte le parti per la produzione che poi litigò proprio con il regista, che si licenziò mollando pure la saga di Batman e lanciandosi sulla realizzazione di Sleepy Hollow. Ma il caso divenne emblematico, tanto da divenire materia per un bel documentario. Innanzitutto perché tutti avrebbero voluto vedere Nicolas Cage con il capello lungo, l'Oreal Paris a sparare raggi laser dagli occhi, e un po' perché la Warner ci spese comunque 30 milioni prima di mollare tutto. Alla numero 9, Frankenstein. Sarebbe stata probabilmente l'ennesima trasposizione del romanzo di Mary Shelley e considerato che quello di James Whale del 1931, secondo me è ancora godibilissimo, avrebbe potuto risultare stucchevole come quasi tutte le trasposizioni uscite nel corso dei decenni. Tuttavia qui, a parlare del moderno prometeo, non ci sarebbe stato uno qualsiasi, ma il profeta del body horror, David Cronenberg, autore di un universo horror dove carne e mente spesso si confondono dando vita a orrori inenarrabili e di stampo persino Lovecraftiano, se vogliamo, come la mosca. Ora che spero di avere la vostra attenzione, purtroppo devo anche spiegarvi che il desiderio del regista canadese era però quello di rimanere maggiormente legato al materiale originale, in cui il mostro si dimostra più intelligente di quanto sia stato rappresentato nei cinema. Alla fine, per motivi mai del tutto chiariti, il progetto ovviamente andò in fumo, proprio come il mulino alla fine del classico Universal. Peccato, perché aveva le carte in regola per essere un capolavoro. Alla numero 8, Gigantic. E di questa storia mi pare avessimo accennato qualcosa anche in quest'altra lista qui a destra, ma andiamo con calma. Non succede spesso che Disney punti sul cavallo sbagliato, o quantomeno se accade, di solito evita di sponsorizzare un progetto su cui poi smetterà di investire. Questa è esattamente la storia di Gigantic, rivelato al Disney Expo del 2015 e che sarebbe stato una trasposizione della favola di Jack e il fagiolo magico, dove il giovane Jack finiva col diventare amico di una bambina di nome Inma, alta 10 metri, aiutandola nella sua battaglia contro i cattivissimi giganti della tempesta. O almeno questo è quello che sono riuscita a capire, un po' per le spicce. L'investimento partiva sotto i migliori auspici e sarebbe stato gestito alla regia da Nathan Greno, regista di Rapunzel, e Meg Lefouf, autrice di Inside Out, come suo vice. E se ci aggiungete che alla colonna sonora avrebbe dovuto esserci il team musicale di Frozen, beh, potete ancora meglio immaginare l'impatto che avrebbe dovuto avere il film nei piani della Disney. Sfortunatamente ci furono non meglio definite divergenze artistiche, forti quanto bastava per rendere il film un gigantesco nulla di fatto. Alla numero 7, Justice League Mortal. Visto che a quanto pare tutto sarebbe meglio della Justice League di Joss Whedon, sia la Snyder Cut che i film dell'universo animato DC Comics, lasciate che vi parli un attimo del primo vero film mai realizzato sugli Avengers di Gotham City, messo in cantiere all'incirca nel 2007 e che vedeva muover nei fili George Miller, l'uomo dietro la saga di Mad Max. All'epoca erano ancora tempi non sospetti, Warner cercava di lanciare il suo universo condiviso, ma non era certo una cosa facile. Nel cast di questo grandioso esperimento erano già in lizza Adam Brody nei panni di Flash, Armie Hammer come Batman, il rapper Common come Lanterna Verde e molti altri nomi altisonanti. Ma ovviamente era una produzione Warner sui supereroi, non poteva filare liscia fin da subito. Tra gli altri, a mettere la parola a fine al progetto, furono gli sceneggiatori, partecipi del devastante sciopero del 2007. Pensate che, visti poi gli enormi problemi produttivi riscontrati a livello logistico sul suolo australiano, la Warner decise di mettere in stand-by il tutto e di concentrarsi sul film di Lanterna Verde, quel film di Lanterna Verde. A giudicare dall'attesa ripagata abbondantemente per Mad Max Fury Road, forse Warner avrebbe potuto dargli qualche settimana di fiducia in più. Alla numero 6, Halo, che per gioia e terrore di migliaia di nerd impazziti arriverà finalmente so schermo quest'anno, 2022, con una serie tv ad opera di Paramount, ma che in realtà è nell'hangar di lancio da almeno 15 anni, ovvero da quando, a metà degli anni 2000, con l'avvento della saga videoludica di Microsoft, la Columbia Pictures cominciò a lavorare a una trasposizione. Il progetto partiva alla grande, produzione di Peter Jackson, sceneggiatura di Alex Garland e regia del quasi esordiente e talentuosissimo Neil Blomkamp. Ovviamente, quando per una volta sembra tutto pronto, cosa può mancare? Ma dai che lo sapete, i piccioli. Infatti Universal e Fox, che sarebbero dovuti essere i due massimi finanziatori di quella che poteva essere una saga coi controfiocchi, all'improvviso si tirarono indietro e il tutto venne accantonato, fortunatamente con un lieto fine. Se infatti da una parte molti sette costumi vennero riadattati per quel District 9, che avrebbe poi lanciato la carriera di Blomkamp, il regista sudafricano poteva anche sbizzarrirsi in un enorme esercizio di stile girando il cortometraggio Halo Landfall, salvando almeno l'idea alla base del progetto. Alla numero 5, Spider-Man 4. L'ultimo uomo ragno ad opera di Sam Raimi avrebbe dovuto riportare la saga, quella di Tobey Maguire, ma tanto lo sapete già, ai fasti del primo e secondo capitolo, affossati abbastanza terribilmente da quel mezzo flop del terzo capitolo con Venom. Ma purtroppo, o per fortuna, dipende dai punti di vista, quel film non ha mai visto la luce, sebbene Raimi avesse già firmato per un quarto capitolo, molto prima della produzione del reboot con Andrew Garfield. Molte delle idee di Raimi erano già note, Dylan Baker, già visto come il Dr. Connors, avrebbe dovuto essere ovviamente Lizard, John Malkovich avrebbe interpretato l'avvoltoio, Anne Hathaway venne ipotizzata come gatta nera, mentre il solito immancabile Bruce Campbell, che se non è presente in Doctor Strange, faccio una strage, sarebbe stato misterio, ovviamente in un cameo. Ma la cosa che scaturì maggiormente da questo processo creativo furono le ovvie divergenze di intenti tra Sony e Raimi, a cui fu chiesto più o meno di levare le tende e schiodare le chiappe. La saga si è poi ripresa come sappiamo, e alla fine Raimi un film sulla Marvel lo farà comunque. Speriamo sia ancora ispirato come al solito. Alla numero 4, Una banda di idioti, che sì, potreste essere anche voi, ma in questo caso sarebbe il titolo del romanzo di John Kennedy, Tool, una moderna trasposizione del Don Quixote in chiave statunitense, e divenuto presto un cult, tanto che si parla di un film a riguardo fin dall'uscita del romanzo negli anni Ottanta. Visto il tema e l'epoca, il progetto venne affidato nel 1982 ad Harold Ramis, regista di Ghostbusters, e il protagonista avrebbe dovuto essere John Belushi, che purtroppo morì di lì a brevissimo. Al che, negli anni successivi, si pensò di sostituirlo con John Candy o Chris Farley, ma morirono presto anche loro. Poi ci fu anche l'idea di castare per un ultimo grande ruolo la celebre drag queen Divine, ma inevitabilmente morì anche lei, e in un mondo normale qualcuno qui avrebbe già sigillato in un bunker con acqua benedetta la sceneggiatura del film, ma non Steven Soderbergh, che se la studiò attentamente e scrisse nel 2015 una versione adattata per la regia di David Gordon Green, con un signor cast tra l'altro, che includeva Will Ferrell, Jesse Eisenberg, Paul Rudd e Rosie Perez. Ma a far capire definitivamente che anche questa versione andava scardinata dal mondo, ci si misero alcuni ritardi produttivi e l'Uragano Katrina, che avendo distrutto praticamente tutta New Orleans, aveva anche di fatto cancellato la vera location della produzione. Oh, sto film non sapeva da fare. E basta. Alla numero 3 Double D Vega, aka The Vega Brothers. Il film che avrebbe ufficializzato senza se e senza mal Tarantinoverse. Un progetto epico e dai toni soltanto minimamente immaginabili, un concentrato di genio e violenza che... ovviamente non vedremo mai. Questa è sostanzialmente la storia di quello che avrebbe dovuto essere una specie di prequel a tutte le storie raccontate dal regista italamericano tra Le Iene e Pulp Fiction, e avrebbe fatto incrociare due dei grandi protagonisti dei film, Michael Madsen, ovvero Victor Vega, e John Travolta, suo fratello Vincent. La storia si sarebbe attaccata all'aneddoto di Travolta sul suo viaggio in Olanda, dove avrebbe dovuto visitare proprio il fratello. Ma alla fine anche lo stesso Tarantino decise di non concentrarci, sì, rinunciandovi in prima persona. Oggi i due protagonisti sarebbero ancora in gamba, ma molto appesantiti. I loro personaggi nei film sono entrambi morti e sepolti, molti dei sottotrami ideate da Tarantino in quel periodo sono state riconvertite poi nella sceneggiatura di True Romance di Tony Scott, quindi direi che se vi mancano i Vega vi dovete riguardare Le Iene, Pulp Fiction, oppure vi conviene inventarvi una cura medievale per convincere Tarantino. Alla numero 2, Bioshock. Quando il primo Bioshock arrivò a sconvolgerci le menti nell'ormai lontano 2007 e le folle gridarono, giustamente al capolavoro, la Universal non volle farsi scappare l'occasione per rovinare un altro videogame con un adattamento cinematografico, e allora si pensò a una sua versione su grande schermo che spaccasse esattamente quanto il videogame. Alla regia venne affidato Gore Verbinski, regista di molti blockbuster di successo, come The Ring o la saga dei Pirati dei Caraibi, che però, forse proprio per il suo successo, si tirò indietro limitandosi a restare nel team produttivo, ma spinse un po' troppo sul giustamente scontato, visto il videogame Rated R da dare al film, e insistette per un budget di circa 200 milioni, gran parte dei quali sarebbero serviti esclusivamente a realizzare la mastodontica e splendida città di Rapture. Ma siccome nello stesso periodo l'uscita del Watchmen di Snyder, che era C-Rated R, venne stroncato malissimo al botteghino, il tutto così pensato, apparve molto difficile da vendere. Ma Verbinski non si mosse di mezzo metro sulle sue condizioni, e allora la Universal lo mandò a quel paese. Presto il progetto naufragò come la perla nera tra le fauci del Kraken, per la gioia del game director di Bioshock, Ken Levine, che all'epoca giudicò intelligentemente la trasposizione filmica della sua creatura come semplicemente impossibile. Oggi che sono passati 15 anni è Netflix ad annunciare che ci metterà mano, e allora, visti i progressi fatti nel campo, ci tocca solo aspettare. Prima di svelare la nostra numero 1, ecco alcune menzioni onorevoli. Se non volete che anche il vostro sogno nel cassetto di realizzare un biopic su Cristiano Malgioglio venga screditato da qualsiasi casa di produzione al mondo, cliccate la campanella degli avvisi. E alla numero 1, Napoleon... no, mi sa che doveva essere Napoleon, vabbè. Il generale, divenuto presto Lampere, ha sempre suscitato un grande fascino nell'industria cinematografica e Kubrick, rimasto delusissimo dal celebre film del 1927, innovativo da un punto di vista tecnico ma, parole di Kubrick, pessimo nell'adattamento di storia e personaggi, decise che quello sarebbe stato il suo grande obiettivo. Tra i progetti mai realizzati o conclusi del genio statunitense, infatti questo è senza dubbio quello più ambizioso, ma confido che sarebbe stato l'ennesimo monumentale mattone capolavoro. Subito dopo l'uscita dell'Odissea nello spazio, Kubrick dedicò ampio tempo allo studio della vita di Napoleone Bonaparte, leggendo ogni libro a tal riguardo e dedicandosi a impegnative ricerche storiografiche, al limite del maniacale. Alla fine, convinto di sapere dove e come girare questo film ne produsse uno script, destinato però a non vedere mai la luce. Il problema principale si rivelò essere ovviamente il budget, vista la monumentalità della produzione in corso e soprattutto il fatto che il film Waterloo, uscito in quegli stessi anni, si fosse rivelato un megaflop. Oggi il Napoleon di Kubrick e la sua produzione sono diventati soggetto di una serie tv ancora in fase di realizzazione e speriamo renda almeno giustizia dal suo processo creativo. Allora, piaciuta la nostra lista? Napoleon, non Napoleon, 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 suona malissimo.